Benvenuti su Mettere Giuliacci, che tempo farà tra il 24-26 dicembre, le tre giornate clube delle festività natalese? Ebbene, il 24 sull'Italia insiste l'anticicolone dell'Azzorre, alta pressione e quindi bel tempo, temperatura sopra la nuova. Natale il 25 ancora, anticicolone dell'Azzorre sull'Italia, debole piogge nel pomeriggio sera su Levante Ligure per l'arrivo di una avanguardia di una perturbazione atlantica piuttosto fredda che farà sentire i suoi effetti fino al 27. Ma per Natale ancora temperatura sopra la media. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano, arriva la perturbazione Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Sardegna con piogge, debole nevicate sulle Alpi intorno a quote tra 500 e 1000 metri, temperature in calo al centro nord, freddo sul nord Italia. Termino comunque, la saluta ancora da Mario Giuliacci.